Parliamo di teatro e lo facciamo insieme al 2-8 e mezzo che debuterà molto presto con la commedia brillante in due atti una valigia piena di soldi. Avete portato la valigia? Sì, la valigia. Sono i soldi? No, contavamo su di voi. Come al solito questi scamotage teatrali di portare le valigie. Questa è un'autentica valigia di cartone del 1990 più o meno. Allora, che personaggi interpretate e qual è la trama di questa commedia? Allora, fondamentalmente la commedia è stata scritta un po' addosso, nel senso che... Ma non metti un po' di ansia, ti prego, un attimo... Ok, grazie. Allora, coprimi il naso che fa anche ombra, ok. Dunque, il... Ricomponiamoci. Allora... Peccato che tu non puoi parlare. Eh, lo so, questo è il guaio, infatti. Sentite che voce. Ci dobbiamo adeguare, insomma. E tanto che aspettavo un'occasione così, veramente. Allora, dunque, la valigia è piena di soldi. Allora, stringi, ok. Una valigia piena di soldi e una commedia brillante in due atti, l'hai già detto questo, sì. Debuttiamo il 15 aprile, questo giovedì... Io gli ho chiesto quando ho debuttato. No, assolutamente, ma... Qual era la domanda? Gli hai chiesto di sapere quali forse sono i personaggi e la trama della storia. Ok, ce la faremo. Allora, i personaggi partono un pochettino anche da una leggera nota autobiografica, nel senso che sono due amici e cognati che abitano al piano dello stesso condominio e lui è il più grande cinquantenne intellettuale, un po' deluso dalla vita, eccetera, e io sono il quarantenne, un po' come si può dire, che non vuole crescere molto, non vuole impegnarsi ed è il giorno del suo compleanno. E succedono tante cose nell'ottica classica della commedia brillante, del gioco degli equivoci, dello scambio di persone e tante cose molto interessanti e carine, divertenti. Venite a vedere la commedia, vi prego, se no mi devo vendere un rene per pagare tutto, grazie. Ecco, appunto di questo volevo parlare con voi. Del rene che mi parla. No, che cosa ci fareste voi con una valigia piena di soldi? Ecco, tanto per cominciare ci trasferiremo in Brasile, no, per approfondire nuove esperienze artistiche, chiaro, è uno stage, penso, a Copacabana, di un paio di decenni. Di chi è la regia? Chi c'è nel cast oltre voi? Dunque, testo, regia e progetto della scenografia e anche, ha preso un paio di caffè qualche volta, Enrico Caruso, che salutiamo tanto, ciao regista, un artista poliedrico straordinario. Nel cast ci sono Sabalo Console, Lidia Pentassuglia e Silvia Cuccovillo. Siamo in cinque. Com'è stato cimentarsi nella commedia, lasciando temporaneamente il cabaret? Che tipo di esperienza rappresenta per voi? Senti, in realtà questo è un percorso, possiamo usare questi termini artistici, anche noi, è un percorso che noi stiamo facendo da alcuni anni, quello di riappropriarci un attimo della tradizione. E infatti questa è una commedia brillante, classica, assolutamente tradizionale, però che tratta temi moderni. Come farà a recitare? Noi stiamo pensando seriamente a una boccetta di manna, di acqua santa, un'intercessione di qualche tipo, intercessione. Ma questo duo, secondo voi, è sempre unito o ci sono dei momenti anche di bassi? Scopriamolo facendo dire ad ognuno di loro pregio e difetti dell'altro. Pregio e difetto del tuo compagno d'arte. Non ha difetti, questo è l'unico difetto che li posso trovare. Sta mettendo le mani avanti, uno che non sa cosa gli aspetta tra un po'. E non ha altri pregi, però. Prego, vuole rispondere al suo compagno artistico? Dunque, sono 15 anni che lavoriamo assieme e non abbiamo mai litigato. È, diciamo, in modo violento, molto troppo violento. Il suo pregio principale è che fondamentalmente lui è Dio. Il suo difetto è che non lo dice a tutti. Comunque, sono contento perché, voglio dire, frequento gente in un certo peso. Oh, scusa, non volevo dirlo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con una valigia piena di soldi al teatro. Rossini di Gioia giovedì 15 e poi sabato e domenica al di Cagno a Bari. Perfetto. Anche sabato e domenica dopo, lui non so se ci sarà, però noi sì. Quindi il 17, il 18, il 24, il 25 al teatro di Cagno di Bari e il 15 al Rossini. Mi dica. Dio c'è. Bene, io ringrazio il duo 8 e mezzo e vi lascio con Silvia, il prossimo ospite. Grazie a tutti.